Vabbè, non è neanche sta roba... Mimmo? Mimmo? Mi sa che Mimmo... Mimmo? Mimmo? Oddio, ma si muove! Come non si muove? Come non si muove? Non lo so, gli sarà andato qualcosa di traverso... No, dottore, ha visto passare una chica... Quello è il motivo? La voce della regola è una storia che succede spesso... Si è soccato nel tentativo di raggiungere un qualcosa per lui irraggiungibile... Quindi il cervello funziona, pensa... Pensa solo alla figra... Entrando così in uno stato che noi definiamo patatonico... Patatonico, va bene... Se avessimo testicoli potrebbe riprendersi... Ma voi siete matti? Il mio marito è l'uomo che vive... Forse abbiamo la soluzione... Bisogna rintracciare quel gran pezzo di figra... Vabbè, adesso... Ma chi è la figa di Damara? Ma quella non è da fare la mignotta della pubblica cieca... Per dire... Il sacrificio di una donna per riavere il suo uomo... A me cosa cazzo frega di suo marito? Ah beh... Io posso anche pagarla... Devi pagarlo... Quanto? Un importante esborso economico... Ma dottore, voglio entrare anch'io? Eh no... Sai l'operatoria... Funzionerà la terapia? La terapia? Sembra di sì! Sì! Eh sì eh! Funziona! Eppure si muove! Funziona! È guarito! Una lunga terapia... Va beh, lunga terapia eh! Ci vuole un po'... Ehi! Balla! Gioia! Beh... Adesso... Mi stanno esagerando... Va beh, adesso... Il nostro Carletto ci ha stupito... Sette meno meno meno! Addirittura! Con quattro meno! Se mi avete stato il migliore... No! No eh! Un'altra! Aridaglie! Eh eh eh... Aridaglie! Aridaglie! Film che non c'è niente da...